Allora, Soulframe, per chi non lo sapesse, è l'MMO Fantasy, dai creatori di Warframe. Quindi se vi suona non nuovo il nome, è perché di quelli di Warframe. Lavorano molto bene quelli di Warframe, quindi io tengo le orecchie dritte per Soulframe. È la versione Fantasy. Ma che carino questo bambi! Tutto... c'è sta patina... Il colore... molto particolare. I furtivi. Questo cataratta. Sì, è più cooperativo, esattamente, perché sì, è stile Warframe. Quindi sì, è più co-op RPG. Sì, che è MMORPG. Hai ragione. Fondamentalmente, oltre a interessarmi dal punto di vista di quel poco di ambientazione che si era visto, mi ispira perché di quelli di Warframe. Hanno lavorato molto bene su Warframe. Come palette di colori mi ricorda moltissimo Elder Scrolls... Elder Scrolls... L'Otro. Lord of the Rings Online. Solo come palette di colori, eh. Perché anche loro usavano questi sabbia, questi... colori un po' smorti. Che non sono necessari... Non è necessariamente una cosa negativa, eh. Non mi dispiace. che giocare a qualcosa che abbia una palette di colori diversa. Bello il combat. Il combattimento così mi ricorda un po'... Messo tra shivarri. E... Oddio, come si chiamava? For Honor. Sì. Sì, si, pam, parata, ta... Cioè, è proprio lo stile dei movimenti, anche il modo in cui blocchi e contrattacchi. Beh, qui stiamo vedendo... Una quest introduttiva, immagino. Mythical Stug. Il cervo mitico. Tra l'accento questo mago. Ah, quindi ci saranno anche degli enigmi ambientali. Carino. Bella sta cosa. Cosa mi ha fatto un po' War's Legacy, però? Comunque è desaturato tantissimo. No! Poverino, ma guarda, ha ucciso il cervo mitico. Ho già spoilerato. Ti fa messa già sulle balle. Ha ucciso il povero cervo. Lady Deora. Siamo sicuri che Soul Frame sia cooperativo, perché... Io non la sto vedendo, solo single player. Sarà tutto basato su enigmi ambientali e combattimento, probabilmente. Guarda il combat, comunque. Mi dispiace. Molto prevedibili i combattimenti, i movimenti di lei, comunque. Vabbè, magari è tipo il primo bossettino che trovi. Poi lo affrontiamo noi, magari ci fa un culo così. Però mi sembrano estremamente prevedibili per ora, cioè... Molto basic. Allora, vederlo così sembra comunque qualcosa di interessante da tenere d'occhio. Poi vedremo come lo svilupperanno, dai. Non è male. Io preferisco i movimenti di Lies of P. A me Lies of P è piaciuto dal punto di vista del combat. Era complicato per quanto riguardava il prevedere gli attacchi degli avversari. Però a me, cioè, il modo in cui si muoveva P, a me piaceva. Io mi trovavo molto bene con i movimenti di P. Mi trovavo male solo con i movimenti dei nemici, perché erano ovviamente delle marionette. Quindi non era facile rivedere quando avrebbero calato l'attacco. Se facevano un sacco di finte. Vabbè, alla fine è andato giù abbastanza liscio anche l'Eyes of P, dai. A me non è dispiaciuto. Aspetta, ecco qua fa vedere, guarda. Spirito, coraggio, grazia. Vita, life. Beyond that would be your Pact. So... Arranged. Vita il Soul. Oh, yeah, let's show off some of the different looks. Yeah, I like it, I like it, I like it. Yeah. Lots of cool armors that you'll get. Yeah. Visto Archeri, Blades, Arcano. Yeah. Mi sono gli elmi. Joey's flexing his account on me right now. Yeah. So in Soulframe, rather than changing your Warframe, you are going to just change every game needs a magic arm, I assume. So that's what we have here. And you will be changing your Pact, which is with the Omen Beasts that are in the Warframe. Allora... Quindi mentre su Warframe appunto stava spiegando, hai lo switch del... Cos'è che... Non lo so, non gioca a Warframe. Però switchi quella roba lì, che voi sapete che insomma chi ci gioca lo sa. Qui switchi i vari animali che rappresentano il tuo percorso, la tua build. I Warframe, ah, vedi. Quindi abbiamo bisogno di chiedere i nostri ancestri e loro diventano in essenza le mani di customizzare le nostre skill. Quindi puoi vedere, per esempio, Orlik che ha il suo baby sulle spalle, che si parla, non so se è un vero baby o non. È un gran arcanico e quindi possiamo equipare lì. Ma comunque, continuiamo nella demo e... E guardiamo un po' di co-op action. Ok, qui ci faceva vedere un po' di building. Ci dovrebbe mostrare la cop. Che figata sta roba che si butta. Ho sentito bene? Procedural dungeon? Morte. Guarda sta roba. Guarda che ha chiamato un lupo che ha fatto a pezzi il nemico. Tutti impazziti per la mount, senti il pubblico. Qui ci va. Il collettor si è arrivato. Facciate le preparazioni. Questa, tra l'altro, è quella Lady Deora a cui poi fai il culo. No, cos'è sta roba? Marina of Time. Figo, bella sta roba. Tipo il canto che aveva imparato prima. Cioè, ha tipo preso lei da bambina? Le ha tipo ricordato l'innocenza di quando era piccola con una canzone? Torna il cervo, sono felice. Ma è un cervo... Ma cos'è tipo un mix? Così fantascientifico sembra. Ricorda le creature di Horizon. Bellissimo. Bellissimo. Sì. Sì. Sì, è un po'... Diciamo che sta creatura... È fantasy, eh, sicuramente. Però sì, ha quel tocco fantascientifico. Questo era il povero cervo che è stato corrotto. Però è anche difficile da affrontare. No, ma poi con queste musiche ti gasa... È veramente complicato evitare i suoi attacchi. Che lo deve risanare perché mi sa che aveva quell'arma... Ripiantata nel corpo. Oh, sì, lo si riporta alla... Sì, no, lo si riporta allo stato originario. Mi piace. Bello. Si può provare la demo? Se la voglio provare. La craniata. Arrabbiata. Ho andato il cranio, però. Eterno. Quindi prendi la gente corrotta Gli animali corrotti e li fai tornare puri Basta, lo voglio giocare Molto interessante Terremo d'occhio anche questo C'è parecchia roba da tenere d'occhio ragazzi La tua RPG Ti prospetta un 2024 interessante E' importante